Buonasera a tutti voi, bentrovati. Un nuovo episodio, viene da dire così, di maltrattamenti in famiglia in provincia di Catania. Un 51enne minacciava la madre di 89 anni per estorcerle denaro per acquistare droga e alcol. Adesso è stato rinchiuso in carcere il fatto accaduto ad Acicatena. Maltrattamenti in famiglia e distorsione, con queste accuse è stato arrestato un 51enne di Acicatena ad eseguire l'arresto ai carabinieri su disposizione del GIP del Tribunale Tenneo, su richiesta della Procura Catanese, che ha curato le indagini, che hanno fatto luce sulle condotte poste in essere dall'uomo responsabile di reiterati episodi di violenza nei confronti della madre, 89enne. Il 51enne, che ha trovato ospitalità da parte dell'anziana madre dopo la fine del suo matrimonio e dopo essersi allontanato da una comunità di recupero per tossicodipendenti presso la quale era in cura, avrebbe tenuto sin dall'inizio un comportamento violento nei confronti della madre, che sarebbe stato oggetto di continue minacce e di comportamenti violenti conseguenti a sue continue richieste di denaro finalizzate all'acquisto di alcolici e di stupefacenti. Ad ogni diniego posto dalla donna sarebbe eseguita una violenta reazione da parte del figlio, da gravi minacce ai danneggiamenti di suppellettili. In una circostanza il 51enne le avrebbe strappato anche il telefono dalle mani della madre per impedirle di chiamare i carabinieri. In un altro episodio l'indagato avrebbe agito contro la madre con torture psicologiche accendendole la luce per impedirle di dormire. Nonostante il prolungato rifiuto della donna a denunciare tali comportamenti, preoccupata dal fatto di poter causare guai giudiziari al figlio, la donna ha deciso di porre fine alla scia di violenze di cui per troppo tempo era stata vittima e dunque lo scorso 26 settembre accompagnata da un altro figlio si è recata presso la caserma dei carabinieri di Acicatena dove si è convidata con i militari ai quali ha denunciato gli episodi ed il tipo di violenza subita. L'uomo è stato dunque rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Tamponamento a Catena questo pomeriggio sulla tangenziale di Catania in direzione Siracusa nei pressi dello Svingolo per San Giovanni Galermo. A rimanere coinvolte diverse autovetture, almeno due le persone rimaste ferite per fortuna sembrerebbe comunque non in maniera grave. Sul posto le ambulanze del 118, la polizia stradale. La circolazione inevitabilmente ha subito pesanti rallentamenti in direzione, come detto, di Siracusa con la formazione di lunghe code. Da un incidente ad un altro, infatti nella tarda mattinata di oggi sulla strada statale 284 in territorio di Adrano si è registrato per l'appunto un incidente stradale a scontrarsi. Sono stati tre mezzi, un'auto e due moto. A rimanere feriti sono stati due centauri di Siracusa. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 con il personale sanitario che a soccorso è trasportato in ospedale, ma a Bianchevilla i malcapitati per le cure del caso. Per fortuna non hanno riportato feriti di rilievo. Ad effettuare i rilievi dell'incidente sono stati i carabinieri della stazione di Adrano, mentre ad occuparsi della viabilità gli agenti della Polizia Municipale. Inevitabilmente la viabilità ha subito pesanti rallentamenti. Convegno oggi nella chiesa della Gancia a Paternò per parlare della figura della piccola Iulia Florentina nata a Ibla, l'antica denominazione della città di Paternò nel 300 d.C. è battezzata in punto di morte. È stata l'occasione per parlare dei primi cristiani nell'area etnea e dell'evoluzione di Paternò. Sentiamo. Si è tenuto oggi pomeriggio all'interno della chiesa di Santa Maria della Valle di Ciosa, fatta sull'acropoli di Paternò, un convegno in cui si è parlato della figura di Iulia Florentina, la bambina di 18 mesi, morta a Paternò nel 320 d.C., è seppellita nel cimitero dei martiri a Catania in odor di santità. Un incontro per dibattere dei primi cristiani che abitavano l'antica città di Ibla, oggi Paternò, e dell'evoluzione di quest'ultima. La storia della piccola Iulia Florentina è raccontata in un epigrafo in marmo rinvenuta a Catania nel 1730 e conservata al Louvre di Parigi. Una copia di quest'ultima si trova nelle sale del Castellussino di Catania. Il suo significato e i valori di questo reperto per ricostruire la storia dell'antica città di Ibla sono ancora tutte da comprendere. L'evento, moderato da Francesco Finocchiaro, componente del direttivo nazionale Archeoclub d'Italia, è stato organizzato dal XII Vicariato Paternò Raganna, coordinato da padre Salvatore Ali e dalla sezione Ibla-Mairo dell'Archeoclub d'Italia, preseduta da Angelo Perri, con il patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana. Al convegno hanno preso parte Cristina Sorace, docente di storia della Sicilia antica dell'Università degli Studi di Catania, e Dom Vittorio Rizzone, docente di archeologia cristiana alla Facoltà Teologica di Sicilia, nonché abate di San Martino delle Scale. Tra i relatori anche l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. A testimonianza del fatto che questo posto, Ibla, prima di essere un luogo cristiano e arabo, era un caposaldo della geografia di questo posto. E come tale possiamo sicuramente affermare che Paternò ne ha viste di cotte e di crude, ne ha viste tante, veramente tante. Stasera proviamo a togliere un velo a questa nebbia che copre la storia di Paternò. Credo che sia importante sottolineare, come diceva poco fa Padre Lì, che la storia cattolica di questa città risale già al 320 d.C. Quindi abbiamo ben 2000 anni di storia cristiana qui a Paternò. Chi era Giulia Florentina? Giulia Florentina era una bambina, una bambina di appena pochi mesi, 18 mesi, che muore in un anno compreso tra il 320 e il 326, subito dopo la pace della Chiesa, il famoso cosiddetto editto di Costantino, quindi in un momento particolare del cristianesimo nascente che si affermava anche in Sicilia. E' che da Ibla viene trasferita nella città di Catania, dove viene sepolta di fronte alla Chiesa, un mausoleo, non sappiamo bene di preciso, diciamo dove erano sepolti i martiri catanesi. Quindi in una zona privilegiata, importante della città di Catania, dove appunto la Chiesa di Catania venerava i propri martiri. Molto probabilmente ecco la famiglia della piccola Giulia doveva appartenere a quella elite, ecco l'elite locale, forse anche, come dire, quell'elite che lavorava ecco per la Chiesa di Roma o per la Chiesa di Catania. Sappiamo peraltro che anche la Chiesa di Roma aveva delle proprietà nel territorio appunto di, nel territorio di Catania, nel territorio di Paternò, e che proprio per questa ragione ecco avesse un, ecco come dire, un rapporto privilegiato ecco con questo luogo così caro alla memoria dei martiri catanesi. E per questa ragione è stata trasferita ecco da Paternò a Catania, da Ibla a Catania. Ecco, che Ibla era? E' 300 e 90 venti? Sappiamo che che Ibla fosse, certamente doveva essere un pagus, doveva essere un villaggio, non doveva essere un grande centro urbano, importante dal punto di vista amministrativo, della gestione delle proprietà della Chiesa, della Chiesa, della Chiesa di Catania, della Chiesa di Roma. Non sappiamo anche se ci fosse parte, come dire, del latifondo imperiale, ancora superstite, ma certamente un importante centro agricolo, un importante centro funzionale alla vita di Catania stessa. Presenti all'evento, fra gli altri, padre Salvatore Patanè, il rettore della Chiesa Santa Maria della Valle di Giosafatte, il vicario Foragno del XII Vicariato, padre Salvatore Ali, il deputato nazionale Francesco Ciancitto, il sindaco Nino Naso, il comandante della compagnia carabiniera di Paternò, Gian Mauro Cipolletta, nonché una delegazione di studenti delle scuole cittadine. La polizia scientifica di Catania questa mattina nel cortile di Villa delle Favare a Biancavilla ha incontrato gli studenti delle scuole medie per una lezione di legalità, simulando anche alcune scene di delitti criminali. Vediamo. Come muoversi in una scena di un crimine, come acquisire gli indizi per tramutarli in prove, come risolvere un caso. Questa mattina a Biancavilla la polizia scientifica della questura di Catania ha incontrato gli studenti di quattro classi delle scuole medie della città, due della Luigi Sturzo e due dell'Antonio Bruno, all'interno del grande cortile di Villa delle Favare. I poliziotti hanno coinvolto i ragazzi simulando proprio alcune scene per spiegare in che cosa consiste il loro lavoro e quanto sia importante per risolvere casi di delitti criminali. Alcuni degli studenti hanno partecipato fattivamente alla lezione, calandosi nella parte, vestendo proprio i panni degli agenti investigativi della scientifica. Ad organizzare l'evento l'amministrazione comunale e a curarlo l'assessore all'educazione civica, Enza Cantarella. Questo evento l'ho voluto fortemente organizzare a chiusura di una serie di progetti di legalità svolti negli oratori della nostra città. Mi è stato chiesto proprio volutamente dalla polizia scientifica di organizzare un incontro con le scuole medie, infatti sono presenti Luigi Sturzo e l'Antonio Bruno, con i quali appunto dimostreranno il loro lavoro cosa fanno durante il verificarsi di un evento spiacevole come può essere un omicidio. Infatti all'interno della Villa delle Favare è stata proprio allestita una vera e propria scena del crimine in cui i vari poliziotti della polizia scientifica della costura di Catania stanno spiegando, spiegheranno ai ragazzi cosa fanno, come repertare le prove, le impronte, le gocce di sangue trovate a terra. Quindi secondo me è un vero e proprio momento di crescita per i ragazzi, sia da un punto di vista appunto della legalità perché li aiuterà a capire la giusta sinergia che si viene a creare tra le istituzioni e in questo caso i giovani cittadini sia come un momento di orientamento scolastico perché non è detto che tra questi ragazzi che oggi stanno partecipando a questo evento non ci sia un futuro poliziotto dell'area scientifica. Sono davvero contenti di seguire questa dimostrazione tra l'altro l'ispettore De Riggi è riuscita anche a coinvolgere un paio di ragazzi facendoli proprio vestire da CSI quindi sono contenta del loro entusiasmo. Ringrazio la Proloco che mi ha concesso la possibilità di organizzare la giornata oltre che appunto la polizia scientifica e la questura di Catania. Il 27 novembre prossimo si svolgerà il tradizionale appuntamento con la colletta alimentare nell'Arcidiogesi di Catania i prodotti poi verranno destinati al banco alimentare che provvederà alla distribuzione alle famiglie in stato di bisogno e oggi l'Arcivescovo Monsignor Luigi Renna ha voluto visitare a Catania il magazzino del banco alimentare per vedere in che modo operano ogni giorno i volontari nella raccolta dei beni di necessità. Vediamo. Prima visita al banco alimentare quest'oggi da parte dell'Arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna che ha voluto conoscere una realtà appunto di riferimento per centinaia e centinaia di famiglie della Sicilia orientale. Renna ha visitato il magazzino del banco alimentare che si estende per 1700 metri quadrati in cui quotidianamente ormai da 25 anni vengono accolti, catalogati e conservati i beni alimentari prima della loro distribuzione. Tali beni sono recuperati lungo tutta la filiera agroalimentare a cominciare dalle giornate di raccolta della colletta alimentare dalle donazioni di privati, enti e dall'Agenzia Europea per l'Erogazione in Agricoltura, AGEA. Solo lo scorso anno sono stati distribuiti ogni giorno prodotti per 160.000 siciliani a guidare l'Arcivescovo tra le celle frigorifere con i prodotti deperibili e i corridoi pieni di alimenti pronti per essere distribuiti è stato il presidente Pietro Maugeri che ha spiegato come si svolge l'attività dei volontari l'impegno e gli sforzi per il funzionamento dell'intera struttura ma anche il rispetto delle norme sanitarie in materia di conservazione dei beni e dei prodotti alimentari compresi quelli che necessitano di particolare attenzione come il pesce in alcuni casi proveniente da operazioni delle forze dell'ordine come attività di sequestro disposte dalle autorità giudiziaria che dispone poi la destinazione del pescato al banco alimentare una volta accertati tutti i requisiti e le condizioni necessarie per il consumo umano La visita al magazzino del banco alimentare credo che sia una visita che tutti dovrebbero fare perché ci fa conoscere la dimensione della carità che di qua parte per raggiungere tante famiglie della Sicilia orientale i prodotti della GEA i frutti della raccolta alimentare che si terrà il 26 novembre sono tutti qui ben catalogati ben custoditi perché tutti quanti possano ricevere un cibo che renda la loro vita più ridosa ecco la carità della gente è sempre grande quando apre gli occhi sui bisogni dei fratelli oggi abbiamo bisogno di un supplemento di questa carità e che questo magazzino possa davvero scoppiare di tutta la generosità di cui siamo capaci per servire tante persone la cui povertà purtroppo sta avventando la visita di oggi è stata l'occasione per intitolare il magazzino del Banco Alimentare alla memoria di due volontari Alberto Pennisi e Mario De Mauro e questa era l'ultima notizia noi ci fermiamo qui grazie come sempre per la vostra attenzione e a tutti voi l'augurio di una buona serata a a a a a Autore dei sovrapposti